Schumann, slancio, decima incisione. 20 dicembre 1982. Muore all'età di 95 anni il pianista di origini polacche Arthur Rubinstein. Considerato massimo interprete della musica di Chopin, si esibisce in tutti i più importanti teatri di Parigi, New York e Londra. Naturalizzato statunitense dopo la Seconda Guerra Mondiale, Rubinstein rifiuta di esibirsi nelle due Germanie per rispetto delle vittime dell'Olocausto. Si ritira dalle scene nel 1976 a causa di gravi problemi alla vista. Grazie a tutti.